Quest'anno l'Avvento ci prepara, oltre alla venuta di Cristo per il Natale, anche all'apertura dell'anno santo. Sembra un po' un controsenso che ci sia un anno santo pensando che ci potrebbe essere un anno non santo, invece gli anni sono tutti santi, perché Cristo si è incarnato ed ha santificato tutto il tempo, per cui tutto il tempo è kairos, tutto il tempo è santo. Ad ogni modo la Chiesa, secondo la migliore tradizione biblica, ha indetto quest'anno santo e ha orientato questo anno alla luce della speranza, dando come slogan che durante l'anno santo siamo pellegrini di speranza. Cosa vuol dire pellegrini di speranza? Qui bisogna precisarlo bene. La speranza è la virtù per cui si vive, tutti si spera. Si spera che il weekend sia un bel weekend, si spera che i figli passino agli esami, si spera che i nipoti si fidanzino e si sposino per poter diventare nonni, tutto si spera per andare avanti, si spera in qualcosa di positivo, di qualcosa di immaginabile. Se uno si spera l'inimmaginabile è un illuso e finisce nella delusione. Questa è lo sperare umano, ma la speranza, che cos'è la speranza? La speranza è sperare in Dio che è la nostra speranza. Lo diciamo alla Madonna, tu sei la nostra speranza. Dio è la speranza. E Dio non è che è rappresentabile nelle cose che ci guidano tutti i giorni, ma la speranza di Dio è nell'impossibile. È particolarmente interessante sentire il primo annuncio della salvezza. Quando fu proposta alla Madonna la cosa più assurda, a una donna di diventare mamma senza il concorso di un uomo, la risposta fu tutta. Niente è impossibile a Dio. Quando Gesù parlava dei poveri e dei ricchi e della difficoltà per i ricchi di salvarsi, portò l'esempio, dice, è più facile che un canmello passi da una cruna di un lago che un ricco entri nel regno dei cieli. San Pietro intervenne, ma allora in paradiso non ci va nessuno. E Gesù disse, niente è impossibile a Dio. Mi ha impressionato molto quando ho letto nell'autobiografia di Voitigua che quest'uomo pregava tanto e si chiedomandava quanto Dio avrebbe permesso il comunismo. A un certo punto conclude, non mi sarei aspettato che finisse così presto come intervento di Dio. Noi siamo coloro che sperano l'impossibile umano. Quindi possiamo sperare la pace, possiamo sperare la concordia, possiamo sperare anche la unità delle famiglie. Il miracolo di una famiglia che sta sempre unita, noi la speriamo. E questi interventi dell'impossibile di Dio li possiamo chiedere attraverso la preghiera, l'insistenza della preghiera. Ecco che come entriamo nell'anno santo, aperti all'impossibile di Dio, all'imprevisto di Dio, alla fantasia di Dio che vuol realizzare il suo piano di salvezza in mezzo a noi. Buon anno santo, buon avvento.